Benvenuti appassionati di calcio e tifosi della Juventus. Oggi parliamo di dichiarazioni che stanno facendo discutere. Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo della Juventus, ha fatto luce sul futuro di Allegri alla guida della vecchia signora. Restate con me per scoprire ogni dettaglio e non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere le ultime notizie. Ma Allegri è davvero l'uomo giusto per portare avanti il progetto della Juventus? Le parole di Giuntoli hanno riacceso un dibattito acceso tra i tifosi. Scopriamo insieme cosa sta succedendo. Prima di immergerci nei dettagli, cliccate sul tasto mi piace se anche voi siete curiosi di scoprire i piani della Juventus per il futuro. Ora vediamo cosa ha detto esattamente Giuntoli. Durante l'intervista prepartita del derby della Mole, Cristiano Giuntoli non ha lasciato spazio a dubbi. Sembra che Massimiliano Allegri rimarrà alla guida della Juventus per un'altra stagione. A fine anno ci sarà modo e tempo per capire quale sarà il futuro della Juventus. Ci metteremo a sedere con il mister che ha un anno di contratto e sta facendo un grande lavoro, ha detto Giuntoli, sottolineando come la collaborazione con Allegri continuerà a essere valutata in base agli obiettivi futuri. D'altra parte, Giuntoli ha espresso grande apprezzamento per le parole di John L. Kahn, che lo hanno motivato a dare sempre il massimo per il club. Inoltre, la questione del giovane Manna è stata affrontata con cautela, ribadendo l'importanza del dialogo per comprendere il suo percorso futuro in linea con le strategie del club. Queste affermazioni arrivano in un momento in cui la Juventus è impegnata su più fronti, dalla qualificazione alla Champions League al successo in Coppa Italia, dalla valorizzazione dei giovani talenti alla riduzione dei costi operativi. Ora vorrei sapere da voi. Credete che la conferma di Allegri sia la scelta giusta per il futuro della Juventus? Quali sono le alternative che il club dovrebbe considerare? Commentate qui sotto le vostre opinioni. Se trovate questo argomento interessante, lasciate un like e iscrivetevi al canale per supportare contenuti che offrono una visione approfondita del calcio che non trovate in tv. Continuate a seguirci. In definitiva, le dichiarazioni di Giuntoli prima del derby della Mole hanno messo in chiaro alcuni punti chiave del futuro della Juventus. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le strategie del club nei prossimi mesi e come reagiranno i tifosi alle decisioni prese dalla dirigenza. Grazie per aver seguito il video e ricordatevi di partecipare alla discussione nei commenti.